E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti, condividetelo con tutti i tifosi della Fiorentina che conoscete, 10.000 like per questo video almeno, devastate tutti, dimmi piace, guardatevi video fatti, domani sera alle 21, processo al campionato con l'Andreini, il Bruni, ovviamente ritorneremo su questa partita. Vi lascio il link di fan rating, andate a dare i voti ai giocatori di questa parte, seguitemi su Instagram e su Instagram seguite anche Viola Press, dodicesimo Viola, Suffering Fiorentina e Space Viola. Perdere così veramente fa girare i coglioni, fa girare i coglioni perché fino al gol avevamo fatto anche una buona partita, una partita magari non eccelsa soprattutto in fase di possesso da parte di alcuni, ma avevamo fatto una partita ordinata, una partita simile a quella vista anche a San Siro contro l'Inter, una partita di attenzione, una partita di sacrificio, con un errore di Terracciano, che non è il primo anche simile così in uscita, abbiamo vanificato tutto quanto. Abbiamo vanificato tutto quanto, ok che con un punto non è che facevamo granché, però era un punto che poteva dare morale, poteva proiettarti alle prossime sfide con un po' più di coraggio, sarebbe stato anche fin lì una giusta ricompensa a quello che la squadra aveva fatto in campo, soprattutto a centro campo abbiamo fatto una buona partita, secondo me una buonissima partita l'ha fatta Igor, ma tutta la fase difensiva l'avevamo fatta bene fino a quel gol lì, e quell'erroraccio lì ha completamente cambiato le carte in tavola, e oltre a quell'erroraccio lì, un'altra cosa che non mi è piaciuta assolutamente, ovviamente, è stata la fase di possesso, cioè quando noi abbiamo avuto la palla e questa magari andava agli esterni, andava il centro avanti, o bisognava cercare di verticalizzare, di fare delle azioni pericolose, c'erano sempre problemi perché mai nessuno che venisse incontro, parlo soprattutto degli esterni, a volte poi ha smesso di farlo anche Cabral, difesa del Milan che non ha mai corso grandissimi rischi, sono lì con quel tiro di Igor che è nato anche da palla inattiva oltretutto, con quel tiro fuori lì, i nostri esterni tutti abbastanza, o inoffensivi, o mai visti, o anticipati, o incapaci, a me per esempio non è piaciuta per niente la partita di Nico Gonzalez, ha fatto, a parte la solita foga, il fatto di comunque darsi da fare, entrare e via dicendo, ok che avevi di fronte a una squadra che in difesa è solida, perché sia sui terzini che sui centrali è difficile sfondare, però i nostri esterni, ma non solo gli esterni, tutta la manovra d'attacco oggi ha dato un'altra riprova di far fatica, di fare grande fatica, poi ci metti anche le cappelle del portiere e strappare punti diventa difficile, va anche detto onestamente, va anche detto onestamente che magari vincere oggi, avere il pensiero, i sei punti persi contro Salernitane e Udinese, ti avrebbe fatto girare i coglioni in maniera magari anche diversa, però me li sarei portati a casa volentieri, anche un punto mi sarei portato a casa volentieri, boh, è la quarta sconfitta di fila, non mi capitava di commentare robe del genere, dai tempi forse di Iachini e Prandelli l'anno scorso, quindi è anche una cosa difficile, io non è che voglio demolire eccessivamente, oggi alla squadra neanche posso rimproverare più di tanto come con Salernitane e Udinese, cioè non ho visto una squadra che è scesa in ciabate, oggi ho visto, comunque ho visto dei giocatori che a cercare di tenere duro, a cercare di difendere bene, ci hanno provato, è una squadra che ha tentato comunque di limitare i danni, che fino ad una certa l'ha fatto, anche l'arbitro non mi è piaciuto su quell'episodio di Torreira, c'era fallo per noi, era anche una posizione interessante, c'era Giallo, Tornandez non l'ha dato, ma vabbè, comunque oggi alla squadra, ripeto, cose relative a sta partita non ne posso rimproverare, italiano bisogna vedere, allora io credo e spero che abbia tenuto fuori Torreira perché non stava benissimo e quindi avesse solo 40-45 minuti in corpo, io spero l'abbia fatto, credo anche che l'abbia fatto per quello perché se era a disposizione avrebbe giocato, no? Sulla scelta del centrocampo quindi mi può star bene Malè che comunque ha preso un giallo rapidamente, non è stato mandato fuori, ha rischiato molto, però poi è stato anche bravo a gestirsi, però quello che è mancato oggi ma che manca un po' dai, inutile girarci attorno, manca un po' da tempo sono poi, è il finalizzare, la ciccia, sono i goal e quando tu c'hai delle verticalizzazioni, quando tu c'hai l'opportunità di puntare l'area, di andare verso, ci sono gli esterni che giocano sempre, troppo esterni e giocano lontano dall'area di rigore, così che il Milan fa ora a riorganizzarsi, ora che tu dalla fascia punti il centro, il centravanti che è sempre da solo, fa fatica, deve inserirsi e via dicendo, tu sostanzialmente non sei mai stato pericoloso se non in una forse due occasioni, dopo puoi difendere con ordine, puoi fare una partita ordinata, puoi fare una partita attenta fino ad una certa, ma se non la butti dentro poi al minimo errore, questi sono i risultati, questi sono i risultati, io più che incazzato sono dispiaciuto perché non era di certo a Milano che dovevi costruirti l'Europa, io sta partita qua l'avevo già data come persa se vi ricordate, erano le altre che andavano, erano gli altri campi in cui dovevi fare punti, se tu vincevi contro la Salernitana e vincevi contro l'Udinese, oggi una sconfitta te la potevi assolutamente permettere, no? e andare a fare l'impresa a San Siro, poi il Milan devo dire che un po' di spettri li ha vissuti, secondo me, perché non ho visto un Milan brillante, ho visto un Milan o meglio, ho visto un Milan che comunque ci ha messo energia, ci ha messo grinta, ci ha messo attenzione anche, soprattutto difensiva, però ho visto anche un Milan che certi gol se li ha mangiati, parlo quelli con Leao, parlo di Rebic, insomma è stato un Milan che sono due squadre simili queste, cioè che a livello di offensività, pericolosità, i loro problemi li hanno, noi non li avevamo fino ad una certa, il Milan li ha sempre avuti in tutto il campionato, la corsa europea adesso si fa dura, ma di quello è meglio parlarne a palle fredde domani sera, ovviamente ritorneremo sulla Fiorentina, voi iscrivetevi, lasciate like, condividete e vado a dare i voti. Terracciano, spiace, spiace, ma ce l'ha sulla coscienza, lui questa, perché un rinvio del genere non è una cosa veramente, non è neanche il primo se non sbaglio, non è neanche il primo, quindi Terracciano voto 5 più, venuti, ma fintanto che era sì, era stato munito, però considerando la difficoltà degli avversari che aveva sulla fascia, aveva retto anche onorevolmente, io il 6 glielo do, Milenkovic dal 5 al 6, Igor 6 e mezzo, ha fatto un'ottima partita, Biraghi voto 6 più, comunque secondo me è stato tra i più positivi, in fase offensiva non ha rischiato praticamente niente, sia Rebic che soprattutto Messias, la parte destra del Milan è stata facilmente controllata, Duncan, allora, Duncan mi è piaciuto molto il primo tempo, poi è calato, gli do 6 meno, perché comunque il primo tempo era da 6 più 6 e mezzo, il secondo il calo è stato vistoso, quindi gli do 6 meno, non mi è dispiaciuto, devo essere onesto, però poi è calato, Amrabat mi è piaciuto molto, Amrabat per me è stato il migliore della Fiorentina, ed è stato il migliore nel senso che la miglior Fiorentina è stata quella dell'amrabattismo, diciamo hashtag quelli dell'amrabattismo, se siete d'accordo con me, cioè quella che va a pressare, a recuperare, se anche vista una volontà comunque di impegno, di andare sugli uomini, di cercare di riscattarsi, Amrabat è stato pieno protagonista di sta cosa, quindi Amrabat oggi lo vado a premiare, e dico un'altra cosa, avessimo giocato con Torreira e Amrabat, tante partite, tante situazioni, io penso che avremmo diversi punti in più, o comunque avremmo assistito ad una gestione del centrocampo diversa, ma mi viene da dire anche migliore, quindi ad Amrabat 6 e mezzo, ma lei io ci do 6, perché comunque è stato bravo poi a gestirsi in ogni caso il cartellino, non ha fatto granché, ma comunque io, anzi, se abbiamo dato 6- a Duncan andiamo anche 6- a Malè, però comunque non è stato tra i più deleteri, secondo me, venendo ai più deleteri, Nico Gonzalez mi dispiace, ma ci do 5 e mezzo e sono buono, perché veramente quasi ogni palla che ha toccato l'ha sbagliata. Cabral, allora, sì, ha lavorato per la squadra il primo tempo, è stato utile, scendeva, smazzava, si è impegnato, però in area di rigore è sottoporta, a parte quel colpo di testa lì, e il miracolo di Maignan, sempre continua a non timbrare, continua a non timbrare e... che cazzo di voto gli vuoi dare? 6- a meno. Saponara, 6- a meno anche a lui, comunque buoni spunti, buona tecnica, però anche lui di andare a quagliare, poca cosa. Martinez Quarta, gioca in un ruolo non suo, prova a difendere, prova a fare meno o peggio, mi ha gasato quando ha dato il calcione a Teo, però gli do dal 5 al 6, 6- a meno, diamogli 6- a meno, dai, per l'attenuante del ruolo. Buonaventura, voto quasi mai visto, 6- a meno anche a lui, Icone, fatto un recupero in area di rigore ottimo, ma fase offensiva 0 mai visto, 6- a meno, Torreira voto 6, Sottil voto 6- a meno. Voto italiano, 6, perché secondo me oggi non abbiamo perso per sue scelte, le sostituzioni ci stavano, quella di Torreira spero che l'abbia fatta, non per far la scelta di non farlo giocare, ma perché stava male, Milan è più forte, hai fatto una partita, secondo me, dignitosa, decisa da un errore, oggi per me non è che ci sia granché da imputare all'allenatore. Ditemi cosa ne pensate, un caro saluto.